Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per il lunedì dell'Angelo, giornata di Pasquetta che vedrà un graduale miglioramento del tempo anche al sud, ma nelle regioni meridionali ancora si sente influenza di correnti un pochino più fredde da nord-est che portano appunto un po' di variabilità. Controviamo la nuvolosità attesa sull'Italia, come vedete non mancheranno ampie zone di sereno, le nubi che vedete qua al nord si tratta semplicemente qualche velatura nulla di che, al sud invece tanto in tanto si forma qualche cumulo un pochino più consistente. Come precipitazioni in effetti solo al sud sarà possibile ancora qualche breve piovasco, però guardate il fenomeno in realtà in forma sempre più isolata, insomma il tempo tende comunque a migliorare. Quindi in definitiva ci attende una Pasquetta bella al centro nord, cielo sereno o poco nuvoloso, al sud ancora un minimo di variabilità, magari la Calabria, la Basilicata e la Puglia rischiano ancora qualche piovasco ma per lo più in forma isolata e anche di breve durata. Quindi qualche schiarita si affaccia anche al sud e anche al sud temperature che piano piano riprendono a salire. Per sapere comunque nel dettaglio come andrà questa Pasquetta consultate l'app di Trebi Meteo.